Ben trovati in aggiornamento con il TG di 3B, nei prossimi giorni l'anticiclone nordafricano infiammerà nuovamente le nostre regioni del centro-sud nelle prossime ore e domani oltre ad ampie aperture del cielo troveremo anche colonina di mercurio che salirà proprio mercoledì pomeriggio anche fino ai 40 gradi sulle zone interne di Sardegna, Sicilia orientale e l'alta Puglia ma anche altrove massime oltre i 35 gradi ovviamente zone lontane dalle brezze di mare invece il nord è guardate interessato dalle correnti più umide in quota legate a questa ampia zona di bassa pressione sulle isole britanniche e scandinavia e quindi fenomeni di instabilità attenzione in questi casi localmente di forte intensità non escluse grandinate la prossima grafica ci fa vedere la giornata di mercoledì intanto attenzione perché già martedì sera e notte temporali sulla fascia alpina prealpina e pedemontana anche l'alto nord est domani invece qualche fenomeno in più tra piemonte lombardia abbiamo segnalato anche l'appennino settentrionale e nuovamente l'alto nord est durante la serata ripeto fenomeni localmente grandinigeni per quanto riguarda poi il weekend ritorna all'alta pressione insomma weekend decisamente più stabile anche al nord piena estate ovunque dettagli maggiori sull'app di trebi meteo